buongiorno gente e bentornati allora noi nel video precedente abbiamo visto come fare la crema pralinata oggi vedremo come utilizzarla in uno dei tanti modi ovvero oggi faremo una muslin pralinata quest'altra crema fa parte delle creme di base della pasticceria francese e rimane molto sota e vellutata e comunque può essere utilizzata tal quale oppure aromatizzata non so con caffè vaniglia cioccolato oppure come vediamo oggi con la crema pralinata questa crema la utilizzeremo per farcire il pari breast un dolce creato nel 1891 in francia con la pasta choux a forma di ruota per omaggiare la corsa ciclistica pari breast pari e allora ci vediamo adesso gli ingredienti e la ricetta e noi ci vediamo al prossimo video buona giornata a tutti cominciamo a preparare la crema muslin mettete il burro morbido nella ciotola della planetaria e montatelo per bene facendolo diventare una crema poi mettetelo da parte nella stessa ciotola della planetaria mettiamo la crema pasticcera se volete vedere il procedimento vi lascio il link a qui sopra e in basso nella descrizione montate la crema per farla sciogliere una volta fatto mettete il burro poco per volta per farla assorbire bene la muslin sarà pronta quando risulterà ben compatta questa è la muslin basica ora aggiungete il pralinato e continuate a mescolare come vedete la muslin dovrà avere una densità morbida ma compatta e soda e così via che come vedete Mettiamo in un pentolino il burro, l'acqua, il latte, il sale e lo zucchero e facciamolo arrivare al primo bollore. Appena raggiunto mettiamo dentro tutta la farina e mescoliamo con una spadola. In pochi minuti si formerà una polenta, sarà pronta quando si formerà un velo sul fondo del pentolino stesso. Mettetela ora nel cestello della planetaria e mescolatela per qualche minuto per raffreddarla. Poi aggiungete un uovo per volta per creare la pasta shoo. Appena pronta mettetela in un sac a poche con un beccuccio liscio da 10. Con l'aiuto di un raschietto spostate nel fondo del sacco la pasta. Con un bicchiere di circa 10 cm di diametro fate dei cerchi con la matita su un foglio di carta da forno. Imburrate i quattro angoli e il centro della teglia e mettete la carta da forno girata per non sporcare la pasta shoo con la matita. Ora con il sac a poche create dei cerchi facendo due giri con la pasta. Bagnate la superficie con dell'acqua o con un uovo sbattuto e poi mettete le mandorle in scaglie. Infornate per 30 minuti a 190 gradi centigradi con lo sportello del forno leggermente aperto da uno spessore. Tagliate a metà i pari breast e nel fondo mettete la muslin con il sac a poche con beccuccio rigato. Spolverate la parte superiore dei pari breast con dello zucchero a velo. Ed ecco pronti i vostri pari breast. Tagliate a metà i sorta realised to dietro. Tagliate a metà i half and assurance digital. Tagliate a metà i Therefore ca拉ge main di hai da spessore r…! Tagliate a metà i 270 minitata per one, Grazie a tutti.